Tra le novità che nel corso del 2019 dovrebbero poi diventare operative, sono decisioni già assunte, l'istituzione delle municipalità e le conseguenze, perché la scelta è già stata compiuta, municipalità al posto dei vecchi consigli di circoscrizione, quindi la possibilità intanto di risparmiare notevolmente, ma avendo comunque dei presidi sul territorio che siano punti di riferimento. Come funzioneranno? Allora, intanto si tratta di un ridisegno complessivo dei servizi amministrativi e quindi anche con un forte richiamo simbolico all'idea della Pentapoli, e quindi distribuiamo la città in cinque municipalità, avremo però più servizi ulteriori in aggiunta alle cinque municipalità, e quindi avremo intanto la municipalità dei centri storici, Ortigia si legherà alla Borgata Santa Lucia, alla Borgata Sant'Antonio, al Molo Sant'Antonio e alla zona Umbertina. Sperando che venga accolta questa nostra richiesta di una legge speciale per la Borgata Santa Lucia per la zona Umbertina, per rilanciare e integrare lo sviluppo che ha avuto Ortigia anche questa parte importante della nostra città. Poi avremo la municipalità di Cassibile e del mare, quindi metteremo insieme tutte le contrade del mare che vanno da Farro Garrozzieri fino alla Fontane Bianche, perché sono tutte comunità che hanno problemi analoghi fondamentalmente sotto il profilo dei servizi, sotto il profilo del legame anche territoriale, per cui vogliamo mettere insieme tutti questi bisogni, queste necessità importanti che esprimono quelle realtà in un unico contenitore. Avrà come punto di riferimento Cassibile, che quindi diventerà appunto la sede in cui Arenella, Fontane Bianche, Ognine eccetera eccetera, troveranno lì una sede importante sotto il profilo dei servizi amministrativi. Poi avremo Belvedere che si lega ad Epipoli, come è logico che sia, facendo diventare il castello Eurialo il punto di riferimento storico di congiunzione di questa ulteriore comunità. Poi avremo Neapolis e Tiche e poi Accradina e Grotta Santa. Accradina e Grotta Santa appunto avranno due sedi amministrative, proprio per facilitare il rapporto fra i cittadini e le attività dell'amministrazione. Cosa pensiamo che siano queste municipalità appunto sotto il profilo dei servizi? Dei luoghi in cui insieme ai servizi normali, tradizionali, dall'anagrafe alla carta di identità, ci sia anche uno sportello del gestore dei rifiuti, uno sportello del gestore del servizio idrico, uno sportello dei servizi sanitari, in maniera tale che ci siano servizi di prossimità che non siano, ripeto, soltanto quelli amministrativi. Questo comporterà un importante risparmio da un punto di vista dei costi, ma soprattutto da un punto di vista della mobilità dei cittadini che troveranno vicino casa, o quanto più possibile vicino casa, i servizi essenziali. Abbiamo completato tutta la parte amministrativa, adesso alla Commissione Consiliare, al Consiglio Comunale affidiamo la parte politica, dove c'è una proposta dell'amministrazione che è quella di istituire i portavoce della comunità, delle municipalità. In realtà Belvedere, ad esempio, c'è già. Sì, perché abbiamo fatto riferimento ad una precedente legislazione che ha trovato modo di essere, come dire, ripresa al momento in cui sono state eliminate e soppresse le circoscrizioni. E quindi l'idea è quella che ci sia un portavoce, quindi una figura fortemente, come dire, politica, che possa esprimere i bisogni di quella comunità e diventare un punto di relazione, di incontro fra i cittadini e l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda i servizi, verosimilmente, ma entro quando? Beh, gli uffici stanno già lavorando e quindi abbiamo un problema legato alle sedi, perché vogliamo dismettere gli affitti e questo è un elemento di economicità. E quindi lasciamo lavorare gli uffici, io penso che in alcune settimane questo dovrebbe essere già pronto. Grazie